È entrato in chiesa durante la messa, gridando frasi in arabo, poi in vendo contro le opere d'arte e infine tentando pure di togliersi vestiti. La polizia ha denunciato un marocchino 55enne, irregolare sul territorio italiano. I fatti sono accaduti domenica, nella chiesa delle sante Maria Maddalena e Teresa, nel centro di Monza. Il parroco, la madre superiore e una suora hanno segnalato alle forze dell'ordine la presenza di un uomo visibilmente alterato davanti all'altare, che ostacolava lo svolgimento della messa, urlando frasi in arabo. Due equipaggi della squadra volanti sono intervenuti sul posto. L'uomo, con fare aggressivo, si stava rivolgendo al prete e ai fedeli, addirittura imprecando contro le statue e i dipinti presenti in chiesa. Gli agenti sono riusciti, con l'aiuto dei presenti, a calmare e a bloccare l'uomo, mentre stava iniziando a togliersi gli indumenti. Accompagnato in questura per l'identificazione, è risultato essere un cittadino marocchino di 55 anni, irregolare e con diversi precedenti. Gli era già stato revocato il permesso di soggiorno. Ritenuto pericoloso per l'incolumità pubblica, era stato disposto dal questore Marco Dorisio l'accompagnamento presso il CPR di Roma il 21 marzo. Era stato però lasciato andare per la mancata convalida del trattenimento da parte del giudice di pace di Roma. Alla luce di quanto accaduto, gli agenti hanno denunciato l'uomo per interruzione di funzione religiosa e lo hanno sanzionato per ubriachezza manifesta. Il questore di Monza dunque nuovamente disposto il collocamento dello straniero presso un CPR, questa volta di Potenza, dove è stato accompagnato da agenti della questura e sarà trattenuto in attesa dell'allontanamento dal territorio nazionale.